oi Domi senti qua che mi ha mandato Sofi ti faccio sentire un attimo che è successo? mi ha mandato due audio senti io ho tre, ho preparato una spesa riusci a prenderti a volo che te lo mostro è benvenuti in questa casa che vi ho preparato e come vedete è un po' stretta però ci si può stare molto a comunque divertirci aspettate un attimo che poi arrivo a giocare con voi anche se non potete scappare troppo lontani ah e PS ho comunque preso delle precauzioni quindi tranquilli che significa una casa stretta per giocare insieme? non ne ho la minima idea vabbè arrivo ti passo l'IP il server in privato vieni ok eccomi ti vedo ti vedo siamo in una prigione sei nella cella numero 3 tu ciao Tref io nella 1 sopra di te ci sta Death Sofi la vedo che sta bella che è shiftando sta bella che è ballando va bene quindi siamo in una prigione dobbiamo riuscire ad evadere allora hai visto se c'è qualcosa per uscire? io c'ho un'armatura ciao Domi bella per Sofi ti spacco ma c'ho il cibo da prigioniero che sono dei panini Tref ma tu quanti livelli hai? io ne ho mille pure io qua c'ho una leva che però non fa niente no non fa nulla sta leva cerchiamo di uscire in qualche modo io qua sto vedendo vedo che ci sono delle botole che se ti abbassi finisci in una botola di ferro eh però non apri nulla questa leva che sta qui Tref se vedi sopra però ci sono dei bottoni oh vero ok 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 allora facciamo una cosa eh devi stare già abbassato vedi il bottone è via ok e sono finito in un'altra stanza con altre robe di cibo una lista dello staff un binocolo ok ah effettivamente non so se le nostre celle sono uguali tu hai dei bottoni tipo sopra al centro? sì però non posso passare dalla botola è alto un blocco tipo te la piazzi addosso? ho due tappeti ok e ci devi passare sotto sotto i tappeti non posso dai Tref sei un disastro aspetta un attimo che mi sa che ho trovato qualcosa che fa questo bottone? oh ho aperto qua dietro oh sono fuori Tref eccomi mi vedi? qua ci sta una chiave aspetta forse ti ho aperto io vieni 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 ok ok là sopra vedo ancora Dezsofi vediamo un po' se troviamo qualcosa qui c'è il corridoio esterno ci sono dei barili vedi se trovi qualcosa gli attrezzi purtroppo non si possono prendere qua c'è il corridoio esterno ma è enorme sta prigione oddio oh là sopra c'è un libro e una nimtag dovremmo prenderli? eh non ho idea però di come fare esplora un attimo vedi se trovi qualcosa ah qua c'è un'altra leva che ha spawnato un blocco scusa ma se io faccio tipo così e faccio così e sono arrivato qua e quest'altro bottone fa qualcosa no e questo no e questo manco oh invece si ha aperto qui ma cos'è? questa è una mappa di dove siamo? ok mi sa che qua possiamo vedere Sofi ma guarda quanto è grande ma è enorme la tigione non è corretta cioè no non proprio non so forse sono altre persone oppure sono delle persone con le quali dobbiamo interagire altre guardie qua è dove si può giocare a basket aspetta vai troffa ho un problema tecnico vediamo se troviamo qualcos'altro ah ma lì ha aperto quella porta lì vedi che là c'è una porta aperta dobbiamo trovare un modo per raggiungerla ti penso guarda vieni da qua arrivo 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 è qua mi sa che con un po' di parkour si fa qualcosa tipo ragazzi che fate? stiamo esplorando la prigione tu vai intanto tu vai intanto eh sì sì sto cercando di devo dire che questa volta ti sei superata no è perché ci sono questi fili qua che non ti fanno passare però lascio un'altra oh ha fatto qualcosa no sono un genio non lo so in realtà non lo so cosa ho fatto però ci sono delle leve che ho detto ah ha aperto lì ha aperto lì è raggiungibile si può secondo te? eh secondo me sì eh aspetta anche qua c'è una leva sempre il massimo per il mio youtuber amorruccio preferito ovviamente parli di true f vedo se l'hai premuta ha fatto qualcosa? no mi pare di no quella è finta qua c'è qualcosa di nascosto no no nel lato di sotto qua e invece eh ma come lo raggiungi? aspetta no vabbè true f io te lo giuro che tutte queste cose le sto scoprendo a raffica e a caso no mi siamo osservati facciamo una cosa vieni con me guarda qui che ho trovato se tu scendi per di qua vai in un altro punto ancora non credo che sia collegato con il modo di prima ma qua c'è un bottone che se lo premo apri una cosa dove siamo finiti? non ho idea di dove siamo spazzatura poi c'è qualcosa aiuto amico come hai fatto? no vabbè no true f ormai sono il master delle prigioni ho capito tutto vieni siamo nel ci sono i bagni delle femmine vai true f tu vieni i bagni delle femmine true f vuoi del sapone fai mi prendi che cosa per il sapone non mi ricordo una bella cosa i bagni delle femmine sono chiusi io volevo andare non si può eh ma qua si torna indietro cosa fate nei bagni? ma i nostri bisogni affari nostri cioè soltanto le femmine possono andare accompagnate io non lo so guarda cioè proprio tu vedi quindi ha fatto anche dei vicoli ciechi oh 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 mi punta all'arco che fa? calma calma altro f no no e io me ne scappo forse ho trovato un modo per salire ce lo vedi questa scala qua? sofi arriviamo da te mica ti dà fastidio vederci da più vicino eh oh bravissimo treffè bravo bravo arrivo e come salgo? eh puoi andare alla porta puoi andare alla porta è quella? si e come? è in te eh va bene mamma mia però come eh dici che non si arriva lì con un salto aspetta però treffè perché tu effettivamente sei un po' una scimmia non si arriva direttamente alla porta ma qua si e qua si e qua si treffè ma quanto sono forti nelle prigioni abbiamo fatto il team war ok sei il team war treffè perché ti abbassi sempre nella botola? perché treffè sei un disastro sei un top parkourer dormi almeno una cosa vera la dice almeno una cosa giusta l'ha detta ho trovato un bottone treffè così vicino alla libertà ma che non la posso raggiungere e non ci sono salti fattibili per raggiungerlo però qua c'è un libro lettera a Maria eh domi io sono bloccato qua ma treffè sei veramente un disastro cioè sei proprio scarso nelle prigioni si vede che ho un'esperienza come me c'era un bottone nascosto treffè qua c'è una sala di riposo per riposarsi però anche qua si può fare parkour oh aspetta qua c'è un bottone no vabbè no vabbè sì lo ammetto lo ammetto questa mappa è proprio mia non l'ha fatta lei l'ho fatta proprio io per quanto so forte ormai è nella mia testa non ce ne so tutto io so intanto qua io provo passaggi segreti dove? è vero qua 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 se apri questo ti dice playstation 5 qui un bottone che ti porta di qua stiamo esplorando tantissimo stiamo avanzando un sacco fai sempre attenzione a bottoni segreti a qualcosa che potrebbe starci eh aspetta allora faccio una cosa ok ce l'ho fatta è però pure che rimaniamo bloccati lì eh ah c'è eh infatti guarda guarda è vero no ok dai c'è da dirlo c'è da dirlo hai fatto una cosa intelligente perché sennò qua veramente finivamo bloccati di qua si continua da qualche parte di qua si avvicina no si è richiuso quel passaggio l'ha richiuso lei profe devi riaprire il passaggio devi scendere sotto devi scendere sotto devi andare alla cella blocco A rivai nella sala iniziale scendi giù ok vai a sinistra no 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 dove vai oh no non ce la fa eh ti vedo ti vedo ti vedo vieni ti devo aprire no devi scendere tu sono io lì oh mamma mia io mi sono portato sto facendo da babysitter per riuscire da stamattina ma chi me l'ha fatto fare e ti lasciavo soltanto a te qua facevo prima abbiamo aumentato la difficoltà soffi piglia di truef va non lo voglio allora aspetta truef devi fare una cosa si ok io ora ti sblocco il passaggio sali su questa cosa qui conviene il pacchetto ti da pure i v-pack ok faccio allora tu resta qui io teoricamente se ora abilito questa leva tu dovresti avere un passaggio sbloccato vai truef vai 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 ah da quella fa vai 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 ok tu intanto avanza io tra un pochetto ti raggiungo i want to move charles eh però mi sai che qua è bloccato così non si può fare niente non c'è niente no per forza ci deve stare controlla bene i passaggi segreti truef che se magari stiamo trovando qualcosa per fuggire è per colpa tua io non lo vedo io impazzisco ti vengo a prendere e pregherai di poter stare in prigione per nasconderti da me vedi come te lo dico eh no no te lo giuro non c'è niente se c'è qualcosa e tu non lo stai vedendo io ti vengo a prendere ma io sono un bravo ragazzo perché dovrei mentirti irirti di più sono rimasto bloccato what che sto trovando truef aspetta 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 ok torna indietro dai mi fido anche perché non ti posso raggiungere sono rimasto bloccato nella torre che abbiamo sbloccato c'è una botola che va verso il basso che ti fa entrare appunto nella torre e c'è un passcode eh che è questa roba eh allora qua c'è tutto quanto un giro di roba di chi è il nome no è troppa roba è troppa roba forse ti ho liberato ok aspetta lì io qua sto un attimo esplorando sto cercando di capire tecnicamente abbiamo trovato una parola d'ordine eccola qui qui sopra si può mettere una parola d'ordine che sblocca qualcosa il punto è riuscire è qua sopra allora praticamente vedi che qui dentro ci sono dei foglietti e qua c'è un envil e noi abbiamo mille livelli dobbiamo scrivere la password il problema è che la password è stata cambiata di continuo l'ultima password che è stata messa è stata messa il 20 giugno 2021 addirittura il 20 giugno 2021 come password è stata messa la password di peter la password di peter qual è ma voi siete sicuri che riuscirete ad uscire è certo in realtà qui potremmo trovare qualcosa di op nascosto qui dentro il problema è che io non so non so la password sì perché è cambiata di continuo non sappiamo allora troffia tu sei sicuro che lì dentro non c'era un libro un qualcosa no fidati non c'era niente ah un libro c'era che libro c'era questo ma è scritto ma che lingua è sicuramente lingua soprattutto sull'ultima parte il parkour continua perché tu non ci hai fatto caso e me l'hai detto prima in che senso il parkour continua vedi che uno può saltare lì e può continuare treffe io sto no vabbè io sto giocando per due io devo fare pure io ho il compagno among us treffe ora te lo faccio vedere io dove ora te lo faccio vedere io dove e ti abbandono e ti lascio indietro e spero anzi chiederò a soffi di farti le peggiori cose ciao treffe mica mi devo una mano ma che mano ti devo sì te la do una mano volevi ok ti abbandono qua addio treffe addio addio treffe è stato un piacere dai vieni qua treffe dai vieni sì sì goto speravo la stessimo lasciando indietro guards lounge da qui possiamo vedere un botto di roba nuova treffe vero esplora tutto barracks roof key no non abbiamo le chiavi tutti questi bottoni qualcuno fa qualcosa no esplora il più possibile treffe corri vai in giro vedi più roba possibile ma che c'è di qua se trovi delle leve cliccale ma guarda quanto è grande questa prigione ma è enorme ma poi guarda di qua c'è tipo uh ce l'ho fatta sono salito qui sopra treffe non mi picchiare perché io mi sa che se cado non riesco più a tornare indietro ci dovremo separare per sempre beh guarda il lato positivo scopriremo oh ti ho deciso ma no vabbè treffe ma quanto sono forte ma quanto sono forte allora va bene è casa normale ho trovato oddio ci sono dei dischi dei metallica ah qua ci sono le collezioni di tutte le canzoni delle persone di tutte le guardie ricordiamoci che l'ultima password io devo sempre controllare che potrebbe magari c'entrarci qualcosa c'entra qualcosa il best drummer è l'ultima password di peter 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 può essere il batterista dei metallica dio devo andare a cercare su internet chi è il batterista dei metallica se è questa la soluzione io impazzisco io te lo dico però bisognerebbe tornare indietro allora conviene che tu vai indietro e intanto io rimango qua devi ritornare dove c'erano prima tutte quante quelle celle ok raga ci siamo separati quindi io non sento lui lui non sente me io spero ovviamente che ci porti a un qualcosa di buono teoricamente dovrebbe darci accesso a tutte le chiavi resta il fatto che però io nel frattempo voglio comunque controllare se trovo qualcosa qui c'è appunto l'ufficio delle guardie oh 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 questi pulsanti fanno qualcosa oh 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 aspetta allora ok ho cercato il batterista dei metallica e dovrebbe essere questo qui quindi come mi ha detto tu mi prendo questo qua lo rinomino ok e adesso lo devo mettere nel coso di Lars giusto no non va mica era quello di Peter no mica era quello di Otto no mica era quello di Ben no e niente Tommy mi dispiace ma la tua affermazione era sbagliata e ho provato ma non è così è sbagliato anche se scrivi soltanto tipo il nome o soltanto il cognome eh no quello non l'ho provato ce l'ho fatta si chiudeva meno male che sono entrato subito trofe sono appena riuscito a fare una roba assurda trofe sono dove sei sono nella cella sono in una cella ma c'è una guida su come si gioca a Genshin Impact ci sono diversi bottoni che premo che stanno facendo cose ma non so cosa ah spuono un blocco qua per salire di conseguenza lì sopra e trofe c'è un problema mh qual è ma non c'è niente tu intanto esplora no si va da un'altra parte tu intanto esplora vedi tutto morri voi pure io sono in una cella sono rinchiusi in una cella ma a sto punto io mi lascio qui uno di sapone appoggiato qua sopra così qua lascio aperto e in che senso sei rinchiusi in una cella però hai preso qualcosa qua vedo un item frame hai preso un libro hai preso qualcosa si 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 ho preso il libro ok cosa c'è scritto su quel libro ora arrivo ad aprirti arrivo 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 ecco di qua vieni è tipo non lo so è un libro di cubo passa passa c'è qualcosa sotto di noi qui manco c'è qualcosa e invece ma vabbè no sembra che l'ho inventati questi spazi e mica l'hai fatto tu si è aperto qui qualcosa dai aspetta te l'attivo vai tu vai tu vai tu scendi e vai e sono bloccato in che senso sei bloccato guarda oddio non sei più bloccato bref un brutto atmosfera un libro un altro coso un rumore altra no oddio domi che succede teoria un libro che è una teoria arrivo anch'io oh dove sono finiti non ne ho la minima idea apre il corridoio il corridoio che porta le scale per 30 secondi mi sa questa chest qua guarda che ho trovato passa non ho idea di cosa significa questo libro aspetta tu hai feo ti ho aperto qualcosa tipo in fondo esplora un attimo tu perché tu puoi rientrare da me io da te no c'è un bottone che apre un'altra cosa non capisco arrivo arrivo apre lì apre lì apre lì un'altra volta però ti ha sbloccato qualcosa questo è l'importante no eh sì però è comunque ritorna le celle fuori ecco e se esci ritorniamo lì e che cosa hai trovato tu hai trovato altro hai detto eh niente no no qui c'è una grande organizzazione cattiva il nome è di 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 ditnas o qua c'è un bottone nascosto no vabbè ma quante no zi ma questa mappa è tutta nascosta ho trovato un un passaggio manager ruffo 80 secondi cosa significa manager ruffo 80 secondi sblocco qualcosa e sono ritornato alla mia cella io qua c'ho paura che non torniamo indietro però aspetta eh metti metti una saporetta ci sono un sacco di bottoni qui a terra no e mi segnalo no eh ma è sopra però c'è un modo forse aspetta vabbè vabbè non fa nulla qua c'è per il cordone sinistro se ti avvicini qui si sentono di minecarta oh non ci credo oh troffa libermi aspetta mi arrivo aia non colpo si si vai aspetta passo pure io ancora ancora no ma siamo ritornati indietro si tutte le strade sono collegate che facciamo ci dobbiamo arrendere veramente dai pigliati qualcosa apriti non si apre oh ma ci sta un bottone qua che apre si e allora mettiti qua mettiti qua vado 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 apre un passaggio aspetta oh ehi ok vai ok 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 perfetto qua c'è un altro bottone e porta vai prima tu ok qua non ci siamo mai passati controllo subito se qua c'è un passaggio non sembra bottoni sotto non neanche sembra scusa perché siamo chiusi mi senti sì no 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 c'è qualcosa che non va ci stiamo perdendo qualcosa troffa what 67 eh è un codice palese palese un codice palese un codice lascio un bottone che si può aprire eh ma anche quelli la prima secondo me servono a qualcosa eh segna tutto segna tutto ok ok perfetto perfetto vai lasciamo via guarda quanto siamo vicini guarda quanto siamo vicini all'uscita ho queste leve perfetto allora con calma si può sia salire che scendere quindi questo è un modo per uscire secondo me c'è il modo teoricamente guarda qua se saliamo dopo la torre è aperta e essendo aperta usciremo per forza dobbiamo solo capire come si sbloccono queste continuiamo a esplorare quasi qua continua no di qua apre per uscire oh troffè sono finiti in un altro posto ancora che cosa ha trovato chi ha trovato una roba stranissima no guarda qua ok ho sbloccato io spero di aver preso tutto no non ci credo traffè ma tu io non sopra quella torre sto cercando io ho trovato libri su libri su libri rimuovi i flyers mi dici come ci sei arrivato c'è ci sei è in tala parte del passaggio ok ma c'è è una cessa quella ah no ok no ok vabbè no di qua è bloccato però ci sono delle robe sotto traffè ho trovato un passaggio vieni ok e siamo nella porta dopo mi sa qui però dobbiamo fare attenzione a tornare indietro eh perché sennò si richiuda e là c'è il parcheggio manco questa rimane aperta per poter tipo fare una sorta di checkpoint ah aspetta qua c'è un altro quadro ok anche qui si vieni 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 ma qua c'è un coniglio c'è Daisy botola in ferro inserisci un chip di una guardia ho aperto qualcosa ho aperto la botola aspetta yes oh cosa ti ha passato a sta porca perché io sono pazzo è un dropper però è un dropper qualsiasi mi sa e infatti non fa niente ho un altro libro ancora no ti blocco basta fammi uscire ah c'era un bottone che non vedeva 3f sto avanzando tantissimo eh 3f sto avanzando tantissimo e senza di te io sono rimasto bloccato dalla prima parte ho trovato qualcosa ho trovato un altro libro ancora elevator button floor sto aprendendo le porte si stai aprendo qualcosa mi sa che è dietro questo quadro si c'è un passaggio bravissimo facciamo attenzione qui si cade dalle scale attento oh dove sono? dove sono? warehouse sei fuori io vengo altrimenti io ti vengo qua a controllare o mi? che forse sono fuori arrivo oddio per dove sei passato? sono fuori per dove sei passato? non mi abbandona warehouse warehouse ci sono pure io poi ci sono le spalle non ci passiamo no 3f impazzisco una presa in giro no aspetta aspetta fermo fai 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 colpiscimi spingimi io uscirò io uscirò non me ne frega io uscirò da quel tipo che poi uscirò bella sta macchina oh bro è la Ferrari aspetta a timing quando salto quando vedi che proprio posso eh no mentre sto in rincorso aspetta ho un'idea mentre faccio questo movimento ok ok vai pronto no ho un po' in ritardo no aspetta oh è difficile sì 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 ciao arrivederci arrivederci sì non ci credo non ci credo eh Sofì ti lascio 2f no oh l'ho già detto e vieni a vederlo apposto andami no ciao ciao no aveva pure rotto lei che potrebbe dai aspetta nientro dai c'è un bottone forse ti posso salvare 3f oh che ti ho fatto ti avevo fatto qualcosa ti prego ti prego fai qualcosa ti prego aspetta aspetta 3f ho un'idea picchiala un po' e poi dopo passa per sotto passa per sotto ok e lauri rimani bloccata qua dentro devi ritornare nel parcheggio ok no aiuto vai mo si ok perfetto vieni qua 3f vai vieni 3f vieni si passa su godo ma le capote pigliate assa la vista stai zitto ok ho 3f ho la palla da male si oh mi pure